Sette anatre uccise, chiuse in un sacchetto di plastica blu, appoggiato in una cassetta di cartone, dove, nel cassonetto degli sfalci, in via del ponte Afano, è lo scenario che si è presentato di fronte a signora Andrea, un residente del quartiere San Lazzaro, che sabato scorso ci ha contattati per denunciare l'accaduto. Sono rimasto allibito, ci ha raccontato, prima di portare gli animali all'Aset. Dispiace che ancora oggi accadano gesti come questo. Andrea, come si è accorto? Buttando via i residui di potatura da casa, nel cassonetto dello sfalcio dell'erba, ho trovato qui dentro questa cassetta bianca, tutto qui. Sette esemplari, secondo lei, frutto di cacciagione? Secondo me, frutto di cacciagione. Qualcuno li ha tenuti nel congelatore, dopo tanto tempo si è accorto che non erano più buoni e ha pensato di buttarli nel cassonetto dello sfalcio. Magari qualcuno, un anziano, qualcuno che possa aver fatto... Qualcuno, anziano, giovane, non c'è età per l'ignoranza.